buongiorno buongiorno a tutti benvenuti a questa conferenza che ha come tema guarino guarini e la torino barocca prima di parlare di guarino guarini mi presento io sono francesco tempiamaccia sono laureando in storia dell'arte sono biellese vivo a biella e nel biellese mi occupo di arte e di cultura ho collaborato con vari siti culturali del biellese partendo dal polo museale masseranese sotto la direzione di stefano cavaliere il dottor stefano cavaliere per poi collaborare con palazzo la marmora il polo di biellapiazzo la fondazione pistoletto e la rete museale biellese da alcuni mesi collaboro anche con upb educa e poco tempo fa mi è stato chiesto appunto di fare una conferenza per questa giornata su un tema a mia scelta ovviamente la scelta poteva essere di tutto era molto ampia io ho scelto questo tema perché è un tema che ci riguarda da vicino quindi parliamo di arte piemontese arte comunque della nostra zona ed è quindi modo anche per approfondire un personaggio e una fetta della storia dell'arte della nostra terra e che quindi ci riguarda più da vicino sostanzialmente e quindi il tema sarà appunto questo personaggio che è poco conosciuto in realtà al grande pubblico perché poi parlando di barocco solitamente viene in mente roma viene in mente bernini borromini pietro da cortona i pontefici difficilmente viene in mente torino a chi è un po' più specialista o ama in modo particolare chiaramente l'arte del proprio territorio sa anche del barocco torinese conosce guarino guarini però ai più comunque è sconosciuto quindi questa conferenza vuole anche essere un po' un approfondimento su questo personaggio un approfondimento per quanto possibile perché mi sono stati dati diciamo al massimo 45 minuti 40 45 quindi anche perché poi non voglio annoiare più di tanto e mi rendo conto che 40 minuti sono pochi comunque per parlare anche di un personaggio che apparentemente può avere poco da dire ma in realtà ci sarebbe molto da dire quindi approfondimento fino a un certo punto in realtà più semplicemente una panoramica a volo d'uccello appunto della sua vita e della sua produzione quindi delle opere principali che sono le opere torinesi perché poi altre opere che lui ha fatto non ci sono prevenute e altre ancora che lui ha progettato non sono poi state realizzate ed erano fuori in altri territori d'italia ma anche fuori dal dall'italia quindi poco è il tempo quindi vado subito a condividere il powerpoint che ho preparato appunto per questa conferenza quindi guarino guarini e la torino barocca guarino guarini ha un legame saldissimo con torino però lui in realtà non è di torino non nasce a torino lui era di modena e lui nasce nel 1624 nasce quindi nel pieno di un'epoca che sarebbe stata un secolo d'oro per la storia dell'arte che appunto l'epoca barocca che in realtà è un'epoca con mille sfaccettature non esiste un barocco punto e basta esistono molti stili e molte direzioni in questo periodo il barocco nasce a roma però anche qui a roma non nasce un barocco ci sono più strade innanzitutto c'è il caravaggio che dà vita a una generazione di artisti e che ispirerà l'arte per moltissimi decenni poi c'è un barocco classicista quello che si ispira ai carracci e poi c'è il barocco propriamente detto che quello che diciamo conosciamo forse meglio che quello di bernini borromini pietro da cortona algardi e molti altri oggi quindi non ci occupiamo però di questi personaggi non ci occupiamo di roma bensì appunto di guarino guarini e della torino del suo tempo guarino trascorrerà l'ultima fase della sua vita a torino sostanzialmente gli ultimi 17 anni scarsi della sua vita dove infatti muore lui muore a torino nel 1683 ha quindi una vita non particolarmente lunga però comunque ricca di eventi di spostamenti e di una grande produzione artistica lui quindi nasce nel pieno di quest'epoca di questo fermento e quindi quando a roma cominciava a nascere questo stile che verrà diciamo cui verrà data una spinta propulsiva o meglio la spinta propulsiva dai pontefici urbano ottavo da urbano ottavo in avanti quindi mentre succedono queste cose guarino nasce a modena quindi mentre a roma un giovane bernini un giovane borromini un giovane pietro da cortona cominciano la loro carriera urbano ottavo il papa del barocco era stato eletto l'anno precedente che sarà il papa che farà diventare il principe assoluto del barocco il bernini che quindi si apprestava in quegli anni a entrare in san pietro e cominciare a produrre le sue prime opere diciamo fare i suoi primi progetti insieme anche a appunto a un certo francesco borromini pietro da cortona di lì a poco creerà le sue primissime opere pittoriche e anche architettoniche e in quegli anni appunto nasce e cresce guarino guarini lo sfondo di quest'inizio della sua vicenda ora faccio una rapida carrellata per poi approdare a torino e vedere appunto un po' più nel dettaglio le sue opere lo sfondo di questo inizio l'inizio di questa storia è appunto modena guarino nasce appunto da una famiglia modenese la loro casa era vicino alla sede dei chierici regolari teatini i chierici regolari teatini proprio nell'anno di nascita di guarini avevano compiuto appena cento anni quindi era una un istituto religioso relativamente giovane diciamo così erano stati fondati appunto nel 1524 da due personaggi che vediamo l'emblema di quest'ordine e i due fondatori che in realtà non erano soltanto due ma qui vediamo i due principali che sono sanga etano tiene un santo veneto dal vicentino proveniva e qui vediamo un pontefice che nel 1524 non era ancora papa era semplicemente tra virgolette giampietro carafa che poi diventerà papa con il nome di paolo quarto circa un trentennio dopo circa e questi personaggi fondano un ordine quest'ordine quest'istituto religioso che poi avrà grande diffusione che sono appunto i chierici regolari che poi verranno detti teatini perché giampietro carafa all'epoca era vescovo di chieti che la città teatina teatinum da lì appunto arriva questo nome dato all'ordine con cui sono principalmente conosciuti quest'istituto si era diciamo dato come scopo il riportare un po' di rigore nella chiesa anche con un ritorno alle origini del cristianesimo quindi all'essenzialità cosa che in realtà non riuscirà granché tra l'altro poi giampietro carafa una volta eletto papa sarà un papa alquanto discutibile e dispotico la sede di quest'ordine sarà a roma a roma verrà fondato niente meno che nella basilica di san pietro in vaticano che non era ancora come la vediamo oggi cioè come in questa foto perché c'era ancora l'antica basilica costantiniana quindi non c'era ancora la facciata del maderno non c'era ancora la cupola di michelangelo e nemmeno la piazza di san pietro che sarà proprio uno dei massimi capolavori del barocco e di gian lorenzo bernini quindi c'era ancora l'antica basilica costantiniana soltanto a metà con le navate mentre la parte del presbiterio dove oggi sorge la cupola del di michelangelo era già stata demolita e era stata iniziata già la costruzione del san pietro rinascimentale qui in questo luogo qui questi personaggi fanno i voti per quindi fondare quest'ordine la sede principale rimarrà roma questa la basilica di sant'andrea della valle che è un altro capolavoro barocco perché verrà realizzata sostanzialmente dopo almeno quella che vediamo oggi dopo la fondazione dell'ordine teatino e l'interno la cupola e la facciata che vediamo sono opere del seicento quindi opere barocche questa è la sede appunto di quest'ordine guarino guarini infatti poi verrà a roma perché si inserirà in questo istituto religioso dei teatini come dicevo vicino alla casa paterna c'era una casa di quest'istituto quindi lui studierà da loro insieme con i suoi fratelli e poi deciderà nel 1539 di entrare definitivamente in quest'istituto e di diventare sacerdote quindi in quello stesso anno il 22 di ottobre va a roma per completare i suoi studi a roma starà per sei anni fino al 1645 e quindi arriva a roma quando si stanno realizzando grandi opere quando già erano state realizzate le prime opere del barocco come il baldacchino per esempio di san pietro del bernini ma in modo particolare alcune opere di francesco borromini che saranno molto importanti per la formazione di guarino quindi guarino giunge a roma per completare il suo ciclo di studi all'epoca era usuale che dagli ordini e dagli istituti religiosi venissero fuori anche degli architetti o degli artisti penso per esempio anche a padre pozzo andrea pozzo che di poco successivo ma praticamente quasi contemporaneo di guarini e realizzerà delle opere pittoriche per esempio straordinarie a roma e non solo e anche a torino esiste un'opera di padre pozzo e lui era un gesuita quindi dagli ordini spesso si formavano anche perché poi studiavano anche discipline oltre alla teologia alla filosofia più scientifiche quindi la matematica e l'architettura a roma guarino guarini entra quindi in contatto con le opere che all'epoca si stavano realizzando in primo piano in questa foto vediamo la proprio la chiesa di sant'andrea della valle con la cupola la sede appunto dei teatini guarino guarini risiede in uno degli edifici di quest'istituto religioso che il san san silvestro al quirinale tuttora esistente ed entra in contatto con il clima culturale dell'epoca della roma di urbano ottavo qui vediamo alcune opere di pietro da cortona non tutte queste opere verranno realizzate con guarino guarini a roma quindi lui vedrà soltanto una parte di queste opere per esempio di pietro da cortona vedrà la facciata degli santi luca e martina questa qui che vediamo sulla sulla destra mentre le altre verranno poi realizzate successivamente ma io credo che guarino guarini abbia potuto vedere perché no progetti di prima mano da parte di questi grandi personaggi anche perché entrando nel vivo di questo clima culturale e artistico e stringendo delle amicizie indubbiamente avrà studiato anche di persona non soltanto le opere ma anche le idee di questi personaggi parlandoci assieme e non abbiamo però in realtà fonti di questo tipo ma io credo che per come si svilupperà il suo linguaggio torinese sicuramente ha conosciuto qualcosa ma in realtà guarino guarini sviluppa il suo linguaggio in piena autonomia nel senso che non copia assolutamente nulla prende spunto questo sì ma è diverso francesco borromini borromini è colui che indica la via guarino guarini guarino guarini si ispirerà moltissimo a lui però come dicevo questo non significa l'aver copiato gli indica la via però poi guarino intraprende questa via in totale autonomia e quindi realizza le sue opere indipendentemente da quello che borromini stava facendo a roma in quel momento perché poi guarino si ferma a roma soltanto sei anni e nel 45 lascia la città lascia l'urbe e quindi poi non vedrà molte altre opere soprattutto di francesco borromini per esempio qua vediamo san carlino san carlino verrà completato sostanzialmente nell'interno con guarino a roma così come il vicino chiostro ma la facciata che vediamo sulla sinistra verrà completata soltanto sul finire della carriera di borromini negli anni sessanta quindi quando guarino era non ancora giunto a torino ma ormai mancava da roma da circa un ventennio quasi che cosa vediamo in borromini innanzitutto bisogna un po indagarlo per capire che cosa farà poi borromini guarino scusate a torino borromini si ispira in parte e forse paradossalmente all'arte gotica uno può chiedersi che cosa c'entri l'arte gotica col barocco in realtà c'entra perché guarino seguirà in questo borromini poi lo vedremo cioè il mettere in mostra le nervature portanti di una struttura con la sola differenza che borromini e guarini da buoni artisti barocchi confonderanno un po le idee nel senso che nel tentativo di meravigliare lo spettatore faranno sembrare le loro strutture sorrette da elementi che in realtà non sorreggono e che in realtà celano la vera struttura portante però l'idea è quella comunque di mettere in mostra delle linee come il gotico ha fatto scavando queste strutture questi ambienti e lasciando delle forme totalmente innovative anche più innovative di quelle che bernini concepiva lo stesso san carlo alle quattro fontane la chiesa che vediamo il san carlino ha una forma totalmente inusuale mistilinea e a differenza del rinascimento quindi l'epoca precedente il barocco ha più centri il rinascimento voleva un solo centro era monocentrico il barocco è invece policentrico quindi ci sono più punti di vista più momenti più punti da cui le linee strutturali partono le prospettive partono e quindi è un qualcosa di multiforme e le stesse linee non sono più rettiline regolari razionali ma appunto come dicevo mistiline abbiamo visto nel san carlino lo vediamo ora nell'oratorio dei filippini alla chiesa nuova santa maria in ballicella un'altra opera di borromini iniziata con guarino guarini presente a roma e quindi guarino avrà conosciuto quest'opera bisogna tenere a mente dal mio punto di vista la partitura centrale quindi la loggia e il portale sottostante che sono degli elementi che secondo me poi ritorneranno in palazzo carignano di guarino guarini a torino vediamo santivo alla sapienza con una pianta potremmo dire stellare vediamo la cupola della chiesa questo sempre borromini di come sostanzialmente sia dovuta nella sua forma a un triangolo con gli triangoli smussati e da un trilobo cioè questi tre semicerchi che o meglio tre cerchi che si intersecano nel triangolo la pianta della chiesa è una pianta stellare perché in pianta sono due triangoli e non soltanto compenetrati e danno appunto questa forma di stella quindi sono forme che vanno molto al di là di una concezione rinascimentale forme che quindi osano e che vanno oltre il definito potremmo dire e guarino farà la stessa cosa e lo vedremo come dicevo lui stesso si ispirerà come borromini all'arte gotica con queste nervature con queste anche queste visioni prolungate queste viste a cannocchiale come si dice dovute anche a delle altezze non vertiginose ma che sembrano vertiginose dovute proprio alla struttura a cannocchiale che allunga le forme e le strutture quindi come poi vedremo anche nella città di torino con le opere di guarino guarini il barocco è uno stile che diciamo osa che vuole meravigliare e stupire quando guarino guarini lascia roma torna innanzitutto a modena però prima ancora lui farà un po' di giri quindi andrà prima a venezia per un paio d'anni poi a modena dove verrà ordinato sacerdote nel 1647 finalmente dopo questi anni di formazione e di studio rimarrà a modena per un po' di anni ma in realtà dovrà poi lasciare modena in una sorta di esilio per alcune divergenze diciamo così con il governo locale degli este e lascia modena dove realizzerà alcune opere e giunge a messina a messina deve costruire questa chiesa che vediamo in questa immagine una chiesa dei teatini di solito lui realizza spesso delle costruzioni commissionate dal suo ordine nei vari luoghi dove va quindi lui va dove c'è una sede dei teatini e realizza per loro delle strutture delle chiese questa era la santissima annunziata dei teatini a messina è una chiesa che non esiste più perché verrà distrutta dal terremoto del 1908 insieme a varie altre chiese strutture nonché ovviamente le abitazioni quindi non l'abbiamo più abbiamo fortunatamente questa immagine d'epoca che ce la mostra questa chiesa sarà probabilmente il primo amore di Filippo Juvarra Juvarra era messinese ed è un altro grande artista che ha fatto che ha dato forma a Torino e guarda caso lui ha in città una chiesa di Guarino Guarini e si crea questo strano gioco di incontri fra questi due personaggi non direttamente ovviamente quindi Juvarra conosce Guarini grazie alla sua opera a questa chiesa che ispirerà poi lo stile di Juvarra Guarino Guarini lascerà poi Messina sarà un gran girovago, girerà molto questo sicuramente contribuirà anche un po' a formare il suo stile entrare in contatto con vari ambienti culturali va in Francia e realizza una chiesa che Saint-Anne-La-Royale voluta dal cardinale Giulio Mazzarino venne distrutta nell'ottocento quindi non esiste più e qui vediamo già qualcosa che poi Guarini realizzerà a Torino perché vediamo una pianta molto particolare una pianta centrale però con delle cappelle ai lati vediamo una cupola che però non è una cupola semplice abbiamo un tamburo elevato con delle colonne abbiamo due cupole in realtà una è una lanterna sopra la vera cupola che però ha questa forma a sesto ribassato con queste costolonature in evidenza che Guarini riprende da Borromini da alcune opere che lui stava realizzando a Roma direi dall'oratorio dei Filippini però su questo non possiamo saperlo perché come dicevo lui sta a Roma solo sei anni e poi quindi Borromini poi realizzerà molte cose dopo la partenza di Guarino Guarini però probabilmente Guarino come dicevo io credo che abbia stretto un rapporto con Francesco Borromini molto stretto, comunque stretto tra l'altro era una due personalità dalla spiccata spiritualità, religiosità Borromini non era prete però poco ci mancava e c'è un'affinità fra i due e lo si nota poi nel suo stile e io sono dell'idea che Guarini può aver visto dei progetti di Borromini di prima mano prima che lui li realizzasse ma non che avesse già progetti per costruzioni future idee che poi lui avrebbe ripreso nei progetti commissionategli poi dai papi e non solo successivamente e quindi poi qua Guarini secondo me un po' riprende quest'idea di Borromini anche se ripeto è un po' difficile stabilire fin dove c'è l'influenza di Borromini e da dove comincia poi l'autonomia di Guarini che però comunque è elevata le costolonature nella cupola sono poi elementi che Guarino riprenderà a Torino e che appunto poi vedremo quindi bisogna tenere a mente soprattutto direi io questa parte della costruzione Torino Guarino Guarini giunge a Torino intorno al 1667 in realtà le prime opere le realizza a partire dall'anno successivo perché non era ancora ufficiale la sua nomina a architetto della corte Savauda era da un po' di tempo in realtà che i Savoia chiamavano questo Guarino Guarini a corte e finalmente da Parigi giunge questo personaggio così curioso com'è Torino all'epoca? allora Torino bisogna tenere conto che era nata da poco in un certo senso perché certo Torino è una città in realtà antichissima perché è di fondazione come minimo romana poi non sappiamo di preciso che cosa ci fosse prima però la fondazione lo sappiamo tutti è Augusta Taurinorum quindi fondazione romana però poi Torino si sviluppa in maniera monumentale soltanto molti secoli dopo con i Savoia Torino entrerà nell'orbita di questa famiglia dei Savoia di origini francesi in realtà forse sassoni e che si stanzia in quello che poi appunto diventerà il Ducato di Savoia che inizialmente comprendeva soltanto un'area geografica francese poi si estenderà nel Piemonte però Torino rimarrà soltanto uno dei vari centri di questo Ducato solo con Emanuele Filiberto di Savoia e il Duca di Ferro nel Cinquecento Torino diventerà la capitale di questo che ormai era diventato un grande Ducato Emanuele Filiberto sposta la capitale a Torino e quindi quando Guarino Guarini arriva Torino è capitale da circa un secolo in grosso modo e quindi si era sviluppata in quegli anni in quei decenni prima con Emanuele Filiberto che diciamo fonda la struttura poi che diventerà quella che vediamo di Palazzo Reale palazzo prima Ducale poi Reale ma in un secondo tempo dove un tempo c'era il Palazzo dei Vescovi e poi chiama una serie di artisti, di architetti il Bitozzi che poi dà diciamo forma al primo nucleo monumentale della città ma soprattutto sarà poi con Carlo Emanuele Duca di Savoia dal 1580 al 1630 Carlo Emanuele I che Torino diventa veramente capitale monumentale e capitale anche del barocco una delle capitali del barocco allora poi vediamo come Torino si è sviluppata quindi la città romana in alto a sinistra con l'impianto rigido e rigoroso tipico delle città dei castrum romani degli accampamenti perché Torino Torino nasce come città come accampamento militare come castrum questa forma viene strettamente mantenuta nel Medioevo lo vediamo qua in alto a destra poi in basso a sinistra vediamo la Torino di Emanuele Filiberto che fonda la cittadella quindi la grande fortezza qui nell'angolo e poi abbiamo a destra lo sviluppo l'inizio dello sviluppo della città agli inizi del Seicento quindi qua vediamo spero che si veda la freccetta del mouse questo spazio è Piazza San Carlo l'attuale Piazza San Carlo che viene realizzata insieme a tutto questo ampliamento a partire dal primo ventennio del Seicento intorno al 1620 questa è l'attuale Via Roma Guarino Guarini quando giunge a Torino la città era sostanzialmente così cioè si stava sviluppando anche nella parte a est dove oggi c'è l'odierna Via Po in questi decenni quindi in un tempo relativamente breve che possiamo far cominciare con gli inizi del Seicento e con l'arrivo e concludere con l'arrivo di Guarino Guarini Torino si è espansa praticamente del doppio con la realizzazione di varie opere fra cui Palazzo Reale alcune regge a opera soprattutto dei due Castellamonte Carlo e il figlio Amedeo Guarino Guarini quando giunge a Torino ha subito a che fare con progetti di grande levatura ci troviamo qua dove c'è il Duomo e Palazzo Reale spero ripeto si veda la freccetta del mouse qua c'è la Cappella della Sindone qua c'è la Real Chiesa di San Lorenzo questo è Pezza Castello questo è Palazzo Madama qui c'è la Galleria la Manica di Palazzo Reale che oggi non esiste più quindi qua è tutto aperto via Roma Piazza San Carlo e poi in questa zona Guarino Guarini realizzerà altre opere come la Cappella dell'Immacolata Concezione anche se un po' dubbi all'attribuzione e qui c'è Palazzo Carignano o meglio qua è un po' approssimativa come pianta comunque non è importante questo qui grosso modo Palazzo Carignano quindi quando Guarino Guarini giunge a Roma Torino è una scusate a Torino Torino è una città in fermento abbiamo le prime grandi opere di ampliamento già realizzate quindi il primo quello che è chiamato il primo ampliamento di inizio 600 e siamo nel secondo ampliamento nello sviluppo del secondo ampliamento quello verso est il primo verso sud Piazza San Carlo il secondo verso est dove appunto si sviluppa via Po quindi verso il Po eccoci alla prima opera fondamentale di Guarino Guarini ripeto Guarino Guarini ha realizzato anche altro fuori dalla città ma in realtà caso vuole non ci rimane quasi nulla ha fatto vari progetti non realizzati altri realizzati non ci sono prevenuti ci rimane pochissimo di lui in giro per l'Italia in giro per il mondo e quindi Torino è praticamente la città privilegiata ad aver a poter contenere diciamo così a offrire i gioielli di Guarino Guarini qua vediamo la cappella della Sindone Guarino Guarini comincia a progettarla a partire da 1667 68 si trova a operare in una zona già ben definita con un carattere già ben definito che è quello del Duomo e si trova proprio a metà fra il Duomo e Palazzo Reale quindi deve inserire incastonare in questa zona un'opera che quindi ha poco spazio quindi si sviluppa principalmente in altezza ed ha una forma sostanzialmente cilindrica per poi restringersi qua vediamo un po' la cupola di Santivo alla Sapienza di Borromini ma in realtà il Guarino la realizza in modo autonomo perché non può aver conosciuto in maniera diretta l'opera di Santivo la cupola di Santivo alla Sapienza se non nella fase di costruzione quindi secondo me non può essere si può aver visto dei progetti può aver conosciuto quindi sì l'opera di Borromini ma in realtà poi qui opera in maniera autonoma e vediamo all'esterno questo tamburo con questa linea mistilineo questa forma mistilinea e questa successione di archetti sempre più piccoli che giungono alla lanterna all'interno del Duomo qui vediamo la pianta ci sono innanzitutto il Duomo è da questa parte quindi si sale dal presbiterio da queste due scalinate per poi giungere in questi due vestiboli circolari un terzo è qua arrivando da Palazzo Reale e si arriva in quest'ambiente centrale allora qui si richiama un po' il simbolismo della Trinità tre vestiboli che danno vita a un triangolo quindi qua c'è un po' un richiamo anche qui a Borromini poi qualcuno in Borromini ha visto anche un esoterico qualcosa del genere quindi probabilmente potrebbero anche di conseguenza attribuire l'esoterismo qualcosa di esoterico al nostro Guarino Guarini ma questo naturalmente è un po' da provare da prendere con le pinze e al centro della Cappella della Sindone c'era c'è l'altare qua progettato da Antonio Bertola biellese architetto ingegnere biellese e questo è l'interno questo è quello che dicevo la vista a cannocchiale un qualcosa che viene prolungato dalla prospettiva che sembra infinitamente più lungo cosa già sperimentata anche da Borromini però anche qui secondo me Guarino Guarini opera ispirato ma in totale autonomia all'interno gli archetti li vediamo succedersi rapidamente fino al vertice dove sta la colomba e questa chiusura traforata che lascia passare la luce la luce è anche un altro elemento importante nel barocco che fa da contrasto poi con il marmonero utilizzato per la costruzione qui vediamo lo spaccato quindi vediamo questo succedersi di archetti che si restringono sempre di più fino alla lanterna e questi oculi anche questi tratti forse dalle opere romane di Borromini e la simbologia trinitaria viene ripresa dagli archi che sorreggono la cupola che sono tre tre pennacchi tre pilastri tre arcate a pochi passi c'è la chiesa di San Lorenzo anche qui abbiamo una cupola ed è una cupola anche in questo caso davvero eccezionale con questa forma molto particolare esternamente con questa grande lanterna e qui forse richiamo verso la chiesa di Sant'Anna a Parigi perché abbiamo una cupola che qui però è celata da questo tamburo e una lanterna di grandi dimensioni che sembra quasi una cupola a sé stante un po' come nella cupola di Sant'Anna a Parigi e poi l'interno con questi costoloni che riprendono direttamente il progetto di Sant'Anna a Parigi e danno vita a questa forma quasi stellare diciamo quindi la cupola è costituita da questi quattro elementi che intrecciandosi sembrano molti di più ma in realtà sono alla fine quattro costoloni due due che si intrecciano e Guarino scava delle aperture per produrre appunto le finestre e le fonti di luce la forma è poi molto particolare perché non ci sono praticamente spigoli a parte qui nell'architrave ma i lati sono tutti curvi e piegano verso l'interno quasi come fosse un organismo che sta respirando a me dà sempre questa impressione quando vedo quando ancora si poteva viaggiare quando potevo entrarci e quindi Guarino poi produce un organismo che sembra quasi stare in piedi per un miracolo un po' come appunto nell'arte gotica mette in mostra delle nervature delle strutture che in realtà poi non sono quelle veramente portanti come dicevo all'inizio e ciò che veramente è portante nella struttura viene celato quindi in questo in realtà si fa l'opposto del gotico pur ispirandosi al gotico qui vediamo un'altra foto dell'interno quando Guarino Guarini consacra mi pare nel 1680 non vorrei sbagliarmi ma più o meno l'anno è quello celebra lui la messa essendo sacerdote di consacrazione quindi è proprio lui che all'altare celebra la consacrazione della sua chiesa io credo che sia l'unico caso nella storia dell'arte in cui l'architetto consacra la sua stessa opera perché abbiamo avuto certo degli architetti religiosi consacrati ma che abbiano consacrato le loro stesse chiese non mi pare sia mai successo ecco qua abbiamo Bernini la Cappella Cornaro in Santa Maria della Vittoria a Roma quest'elemento dell'apertura architravata con questo timpano mistilineo frammentato e queste colonne potrebbe essere servito di ispirazione a a Guarino Guarini perché è un elemento che è stato usato prima ancora di quest'opera da Bernini e da Borromini qui siamo in anni in cui Guarino Guarini era ancora a Roma credo che l'abbia vista almeno in costruzione in realizzazione almeno questo questa forma convessa dell'apertura che è comunque un elemento tipico dell'opera di Bernini e Borromini e anche di Guarini la ritroviamo poi nella real chiesa di San Lorenzo parlavo prima di Palazzo Carignano e dell'oratorio dei Filippini di Borromini del fatto di tenere a mente l'elemento centrale della loggia e del portale che abbiamo questa forma concava questo frontone mistilineo nel in Palazzo Carignano ritroviamo questa successione di portale e loggia con un frontone mistilineo e però Guarino Guarini fa di meglio comunque fa una variante sul tema mettiamola così rispetto all'opera di Borromini dove non c'è più una linea concava ma convessa ma anche concava ai lati quindi questa fronte viene prolungata come un'onda che si espande ai lati e dilata visivamente le proporzioni del palazzo che già di per sé è imponente e di grandi dimensioni in questo modo Guarino amplia visivamente l'ampiezza la larghezza del palazzo qui siamo sempre all'incirca negli stessi anni nel senso che le opere di Guarino Guarini vengono iniziate quasi tutte fra gli anni 60 fine anni 60 ai primi anni 70 del seicento e palazzo Carignano viene realizzato negli anni 70 anni 80 del seicento oggi lo vediamo leggermente modificato nella facciata con questo emblema dedicato a Vittorio Emanuele II e soprattutto poi nel retro di cui non ci occupiamo perché non è tema di questa conferenza siamo nell'ottocento mentre Guarino Guarini ha appunto realizzato questa facciata dove riprende dal mio punto di vista un'idea che era anche di Borromini dico riprende ma in realtà qui è totalmente autonomo perché siamo in anni in cui Borromini realizza questo interno che San Giovanni in Laterano quando Guarino Guarini era già a Torino o meglio non era ancora a Torino ma era già partito da Roma da anni e vediamo queste nicchie con le statue degli apostoli con vesse che riprendono anche un po' la Cappella Cornaro di Bernini direttamente o indirettamente e la stessa forma la troviamo qua questo confronto io non l'ho mai trovato sui libri di storia dell'arte lo faccio io perché secondo me c'è una connessione indiretta ripeto quando Borromini realizza San Giovanni Guarini non era più a Roma questo proprio per dire di come in realtà Guarini sia anche autonomo nella sua produzione totalmente autonomo Borromini gli ha indicato una strada che poi lui ha intrapreso e ha concepito forse delle idee autonomamente da Borromini quando magari Borromini stesso le stava concependo allo stesso modo in quegli stessi anni chissà magari erano un po' in simbiosi potremmo dire per questo dicevo prima che erano forse due personalità molto affini molto vicine possono essere state anche molto amiche in quegli anni quando Guarino era a Roma un'altra opera di Borromini con questo palazzo di propaganda fide dove ritroviamo lo stesso elemento dell'arco dell'architrave scusate con vessa con le colonne con questi frontoni molto fantasiosi alcuni dettagli del palazzo qui vediamo la facciata che dà sulla piazza con questa onda di mattoni che poi si appiana e si tranquillizza diciamo così nelle due ali laterali del palazzo come se fosse mare mosso e mare calmo questo è anche il barocco cioè il barocco è anche questo stupire questo provocare tensioni ma anche placarle in un secondo momento sorpresa e poi dopo la sorpresa ci si rende conto che è tutta finzione il dettaglio di una finestra con questa cornice questo ciuffo qua in alto molto particolare di totale invenzione guariniana quindi questa è una finestra una incorniciatura tipicamente guariniana l'elemento curvo lo ritroviamo poi nella parete opposta quindi entrando dalla facciata che abbiamo visto si esce poi nel cortile e alle proprie spalle c'è poi questo cilindro girandosi uno vede poi questo cilindro che è poi il salone delle feste dove verrà installato il parlamento subalpino successivamente che quindi richiama la curva della facciata quindi che sta poi dietro dall'altra parte a vivacizzare il tutto ci sono queste lesene queste questi elementi verticali con che fanno che spartiscono le pareti e sono decorate da tutte queste stelline queste stelle a otto punte anche qua io la butto lì a me piace spesso vedere fare dei confronti con altre opere e vedere se è possibile se la cosa può cadrare le stelle a otto punte a Roma c'erano Guarini le ha viste sicuramente questa qui è la porta bronzea della curia di Giulio Cesare fondata da Giulio Cesare la curia Iulia del Foro Romano che poi verrà spostata alcuni anni dopo negli anni 60 mi pare del 600 a San Giovanni in Laterano guarda caso quindi è la porta centrale del portale centrale che immette nella navata centrale di San Giovanni chissà Guarino Guarini avrà visto se non questa altri elementi a Roma con questa decorazione perché non è l'unica porto l'unico elemento decorato in questo modo ma questa è una mia illazione quindi potrebbe anche essere una cosa che ho campato per aria semplicemente il tempo stringe concludo velocemente questa è la chiesa di San Filippo Neri di San Filippo Neri non rimane più nulla sostanzialmente di Guarino Guarini lui progetta una chiesa realizzata solo in parte da lui e dai suoi seguaci poi modificata pesantemente di lì a poco con una grande pupola che crollerà quindi poi Uvarra restaurerà questa chiesa come la vediamo oggi sostanzialmente di Guarini rimane l'altar maggiore il presbiterio e le due cappelle qui ai lati subito prima del presbiterio questo è quello che oggi è il museo egizio il collegio dei nobili all'epoca cioè il collegio dove studiavano i rampolli delle famiglie aristocratiche di Torino quello che diventerà il palazzo dell'Accademia delle Scienze è oggi appunto il museo egizio anche questo un progetto in parte solo in parte realizzato da Guarini negli anni 70 del 600 fine anni 70 79 quindi c'è il progetto suo realizzato però in massima parte poi dal Garove successivamente e qui vediamo il forte chiaroscuro che Guarini ha saputo imprimere con queste finestre queste scanalature nelle nelle lesene nei timpani poi con questi lobby queste finestre ellittiche movimentando in maniera molto potremmo dire antiromana nel senso che comunque qui Guarini ha dato vita a uno stile tutto suo che è lo stile che soltanto a Torino praticamente possiamo vedere chiaro Guarini ha ispirato vari architetti a tratti ispirazione anche da altri architetti che hanno lavorato a Torino e quindi sono cose che poi ritroviamo in parte in giro per il Piemonte sostanzialmente però questo è uno stile torinese del barocco torinese del barocco guarignano la consolata anche qui in realtà il progetto è solo in parte di Guarino Guarini lui realizza il santuario vero e proprio con la cupola poi verrà modificato verranno aggiunte le cappelle intorno Yuvarra aggiunge la parte in fondo dove c'era il parma maggiore oggi e poi davanti verrà messa questa struttura che è questa qui col timpano qua siamo nell'ottocento il campanile ancora quello medievale l'unica parte sopravvissuta dalla chiesa medievale questa è la cappella dell'Immacolata in realtà di dubbia attribuzione però vediamo ancora degli elementi fortemente barocchi quindi questa forma praticamente con due ellissi raccordate da questa parte centrale con questi spigoli centrali che un po' abbiamo visto anche nella real chiesa di San Lorenzo e poi questa facciata mistilinea che ricorda ancora molte altre opere di Guarini e di Borromini Palazzo Carignano per esempio bene concludo dicendo che non potendo viaggiare e fare foto personalmente tutte le immagini che avete visto le ho tratte da Wikipedia mi sembra giusto mettere la fonte delle immagini nonché appunto doveroso bene concludo è stata una carrellata mi rendo conto rapida ma il tempo era poco bisognerebbe parlare per ore di Guarino Guarini per approfondirlo come si deve spero di non aver tediato nessuno vi ringrazio per l'attenzione buona giornata a tutti voi grazie grazie a tutti